Bella raga, andiamo su Clash Clans e facciamo il nostro primo video Ci metterà un pochino a caricare, ma ecco abbiamo caricato che è il nostro nemico Abbiamo perso Ma abbiamo molto di peso E se possiamo distendere Allora Allora Oh Non posso neanche partecipare E No Non posso neanche partecipare Facciamo Oggetto immobile Dai, facciamo Non posso neanche partecipare Eh, boh, niente Adesso Abbiamo fatto 10 di danno Si sta Neanche partecipando Mi rimasto Due giganti E Abbiamo perso Questa partita Pensavo di vincere Invece Niente da fare Non vi facciamo Quasi nessun danno E' schifo Che abbiamo fatto Nessun problema Perchè Adesso Adestriamo Eh, niente da fare Vediamo se c'è Sì Prendiamo E abbiamo Ehm Ehm Prendiamo Ehm Andiamo nel Nel nostro altro Rollaggio Facciamo Facciamo una partita Ehm Sì Perchè Una partita Ehm Un'errore 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 sicuramente l'avversario vincerà e infatti ho perso 5 niente da fare vi devo dire che sono scarso però non posso farci niente cappanna costruttori dobbiamo abbiamo fatto quello che potevamo e niente se qualcuno vuole venire al mio clan questo è il mio si potrei il più forte è questo e questo è il più forte del mio clan e e niente si è buggato sto coso e il suo secondo villaggio è così ed è scarso perchè non attiva né la macchina da guerra né 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 la torre dell'orologio né la minione di gemme l'antica statua barbarica è ancora così possiamo tornare nel suo villaggio è molto forte forte c'ha il laboratorio a livello 7 c'ha 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 tutte le bandiere che ci possono essere c'ha una casa di gemme e niente ragazzi anche questo video è terminato spero che vi è piaciuto e vi ricordo di mettere un mi piace più sotto che vi devo dire no e niente e appunto ricordatevi di mettere un mi piace e e niente anche questo video è terminato spero vi è piaciuto l'ho già detto prima boh e grazie per aver ascoltato abbiamo fatto schifo ma possiamo rimediare sempre grazie grazie